Nonostante fosse ai domiciliari, è stato sorpreso ieri sera dai carabinieri mentre si aggirava in via Stoppani, violando le restrizioni a cui era sottoposto, con addosso una pistola Beretta calibro 6,35 con sei colpi all'interno del caricatore, risultata rubata nel 2016. Alla vista dei militari, l'uomo, più Giuseppe Scardaci, 30 anni, aveva provato inutilmente a fuggire, ma inseguito dai militari della compagnia e dai colleghi del nucleo radiomobile, che erano arrivati in supporto, è stato bloccato e ammanettato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Piazza Lanza.